Generazione a confronto, studenti e imprenditori insieme per il successo. E questo è il titolo dell'evento che si è svolto questa mattina presso l'Istituto Superiore Sciascia Bufalino. Gli studenti del quinto anno dell'indirizzo economico e dell'indirizzo turistico hanno incontrato alcuni imprenditori del territorio con colloqui individuali e diretti. L'Istituto Sciascia e Bufalino si pone come collante tra imprenditori e ragazzi che terminano il loro ciclo formativo proprio perché sempre di più la scuola deve cercare di trovare gli strumenti per far sì che i ragazzi che finiscano nelle classi marginali del quinto anno, che finiscano nel loro percorso formativo abbiano le idee chiare su come orientarsi nei vari settori sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista lavorativo. E quindi abbiamo creato questo speedy meeting, questi incontri veloci con gli imprenditori del territorio e anche con i professori universitari, in modo tale che i ragazzi abbiano le risposte a quelle che sono le loro domande di orientamento perché tante volte abbiamo visto che si trovano disorientati e non sanno alla fine del loro percorso formativo cosa fare e come concludere la loro attività ed iniziare quindi l'attività lavorativa vera e propria. Abbiamo organizzato questo evento invitando, grazie anche ai nostri professori che sono sempre stati al top abbiamo invitato gli imprenditori ed è una grande opportunità per tutti i giovani per connettersi al mondo del lavoro e trovare nuove opportunità. Sicuramente ha comportato una soddisfazione per noi poter realizzare questo evento perché fa parte anche del nostro progetto finale, fa parte della nostra curvatura come classe Quinta C. Ci siamo impegnati tanto per realizzarlo e devo dire che i risultati si vedono e i ragazzi stanno interloquendo con gli imprenditori in maniera da poter realmente approfondire sui vari aspetti che riguarderanno il loro futuro. Giornate come queste in cui gli imprenditori si confrontano e quindi intanto presentano le loro aziende e magari anche hanno modo di conoscersi fra gli imprenditori stessi perché anche questa è una dinamica che a volte sfugge, ma soprattutto spiegano ai ragazzi quali sono praticamente le possibilità, magari come nel mio caso da persone che sono state nei loro panni fino a 10-15 anni fa. Quindi sicuramente attività del genere sono ben volute dalle aziende in primis e credo siano molto importanti per i ragazzi stessi che comunque escono da incontri del genere con le idee più chiare e magari un contatto di una persona che un domani può essere utile per un consiglio o magari per un'opportunità lavorativa, come le aziende stesse si augurano ovviamente.